Da dove comincio? Mia madre mi chiamò Enola. E il mio nome, letto al contrario, significa sola. Eppure, stavamo sempre insieme. Ed era meraviglioso. Lei era tutto il mio mondo. Questo porta alla seconda cosa da sapere. Una settimana fa mi svegliai. E scoprì che lei era scomparsa e non era più tornata. Ora sto andando ad accogliere i miei fratelli, Mycroft e Sherlock. Sì, Sherlock Holmes, il noto investigatore. Il mio geniale fratello. Lui avrà tutte le risposte. Enola. Dove sono? Cappello e guanti? Beh, il cappello ce l'ho, ma mi dà prurito alla testa. E i guanti non li ho. Mio Dio. Una donna selvaggia ha cresciuto, una ragazzina selvaggia. Sarà accettata dalla società. Sembra intelligente. Puoi prendere due strade, Enola. La tua, oppure quella che gli altri scelgono per te. È ora che io trovi mia madre. Che il gioco abbia inizio. Se devo restare nascosta dai miei fratelli, devo diventare qualcosa... di inaspettato. Una lette. Hai fatto progressi, vedo. È al sicuro? Ha avuto una compagnia. Sono il Visconte Tewksbury. Un inutile ragazzo. Devi aiutarmi. Non voglio morire. Io non voglio morire. Non rischiamo nulla prima di incontrarmi. Che state progettando, madre? La verità è che lei aveva sempre una ragione per tutto. Il proprio modo di fare le cose. Forse vuole cambiare il mondo. Forse al mondo serve un cambiamento. Forza! Al contrario delle signore educate, io non ho niente la tua ricamare. Mi hanno insegnato ad osservare, ad ascoltare. E anche a combattere. Sto venendo a cercarvi, madre. Tu non sai ricamare. E anche a combattere.